Ciao a tutti. Guerra in Ucraina e politica europea. Stanno accadendo cose a mio avviso sconvolgenti. Negli ultimi giorni ho letto dichiarazioni criminali dal punto di vista politico. Io come sempre cerco di fornirvi alcuni elementi, ricordo dei fatti, delle parole e vi chiedo di unire pezzi. Cominciamo dalla morte di Navalny. Io immediatamente, l'ho detto in diretta martedì scorso, otto giorni fa da Floris, ho denunciato, ovviamente mi sono beccato, critiche su critiche, l'uso strumentale che viene fatta dal blocco occidentale appunto della morte di Navalny. Utilizzano politicamente e strumentalmente la morte di Navalny per convincerci appunto, insistere su questa folle strategia. Più armi, più armi, più armi, sanzioni, 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 alimentiamo il conflitto. Perché l'obiettivo è alimentare il conflitto, lo è sempre stato, addirittura prima dell'invasione russa appunto dell'Ucraina. Questo è l'obiettivo del blocco occidentale. Prima era un obiettivo strategico, soprattutto britannico-americano, oggi non si sa per quale motivo è diventato anche l'obiettivo strategico dell'Unione Europea, che addirittura ce lo descrive come fosse un obiettivo esistenziale. Una follia assoluta. Uso strumentale della morte di Navalny, tant'è che il giorno dopo Biden, che ha ricevuto poi tutta la famiglia Navalny, ha rilasciato questa dichiarazione, si è rivolto ai congressisti americani dicendo dovete sbloccare i fondi per Kiev, fatelo per Navalny. Il congresso americano ancora non aveva sbloccato questo ennesimo pacchetto di aiuti finanziari per Kiev e Biden è intervenuto fatelo per Navalny, guardate cosa Putin ha fatto a Navalny, sblocchiamo questo pacchetto in nome di Navalny. Tra l'altro questa cosa la dobbiamo sempre ricordare, è uscita un'inchiesta Wall Street Journal, secondo la quale il 64% dei denari stanziati da Washington per Kiev torna all'industria bellica americana. Dunque i denari che provengono dalle tasse dei cittadini nordamericani finiscono dritti dritti, il 64% di essi all'interno delle casse della grande industria bellica, le fabbriche di armi che sono per lo più nordamericane. Questo è il cuore, secondo me, politico, la cosa sulla quale dobbiamo riflettere maggiormente. Il giorno dopo Biden è intervenuto anche Stoltenberg, un politico importante, ex premier presidente della Norvegia, oggi è segretario generale della Nato, quindi a capo dell'Alleanza Atlantica, che è un'organizzazione militare, non certo difensiva, offensiva, che risponde chiaramente a Washington, chi comanda la Nato è Washington. Stoltenberg ha detto le stesse cose, dobbiamo proseguire, dobbiamo vincere, per vincere la guerra, per Navalny, dobbiamo sostenere Kiev, l'Ucraina deve farcela, facciamolo per Navalny, questo è il succo delle sue parole. L'altro ieri, Macron, tra l'altro è tutto folle, io credo che la logica di questi politici, o ci sono interessi o questioni che davvero non conosciamo, oppure la logica è arrivare quantomeno alle elezioni europee con l'Ucraina ancora in piedi, cioè questa è la logica, ed è folle, perché veramente, come dire, stanno sfruttando in maniera pelosa l'Ucraina, il sangue ucraino, la carne ucraina, per evidentemente obiettivi politici che tra l'altro, secondo me, neanche riusciranno a raggiungere. Ad ogni modo Macron, il Presidente della Repubblica, al capo appunto della Francia, uno dei paesi più importanti al mondo, membro permanente appunto all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha rilasciato prima di dichiarazioni folli, non ha escluso un coinvolgimento diretto appunto dei militari Nato, quindi soldati francesi, tedeschi, inglesi, americani, eccetera, eccetera, direttamente in Ucraina. Questo ovviamente rappresenterebbe la Terza Guerra Mondiale. Dicendo ancora non c'è consenso, ma la Russia non deve vincere. Di nuovo arriviamo qui, la Russia non deve vincere. Io voglio soltanto ricordarvi tutto quello, perché mi segno tutto, tutto quello che è avvenuto appunto in questi ultimi mesi. Innanzitutto, ieri il primo ministro francese, Gabriel Attal, intervistato dalla radio RTL, ha sostenuto appunto le tesi di Macron e ha detto non dobbiamo escludere nulla in una guerra che si svolge nel cuore dell'Europa, incluso l'invio di truppe di terra. Ricorderete che molti analisti, che ovviamente sono stati serie, che sono stati poi infangati e definiti collaborazionisti del Carmelino, hanno detto l'unico modo per sconfiggere sul campo la Russia e inviare truppe di terra. Pensate, lo dissero, ovviamente, ah sono criminali, in realtà sono filoputiniani, in realtà la Russia sta perdendo, i militari russi combattono con le pale, non hanno più i semiconduttori, Putin ha finito le scorte di missili, ha 30, 40, 50 patologie, Prigozhin sta arrivando a Mosca, stanno facendo il colpo di Stato, quante balle ci hanno raccontato, il tutto per alimentare appunto la narrazione bellicista. Gabriel Attal ha insistito due anni fa, ha ricordato, numerosi paesi escludevano di inviare armi agli ucraini, oggi inviamo missili di lunga gittata per sostenere Kiev dinanzi a questa aggressione, quindi quello che ha ricordato il Presidente, ce l'aveva con Macron, non va escluso, non va escluso appunto perché nulla si deve escludere una guerra, che ha a che fare con le sorti della stessa Unione Europea. Su questo punto Macron è stato chiaro, ha continuato a tale, ribadendo la posizione della Francia per la quale la Russia non può vincere questa guerra. La Russia non deve vincere e queste dichiarazioni vengono fatte, uno, mentre ci avviciniamo chiaramente alle elezioni europee, e due, in un momento drammatico per gli ucraini sul campo, tolta una fase iniziale complicatissima durante la quale evidentemente i russi hanno sottovalutato la resistenza di Kiev, una serie di informazioni evidentemente l'intelligenza russa le aveva sbagliate. Abbiamo assistito ad una guerra di logoramento che la sta vincendo la Russia. Le tre principali battaglie di questa guerra sono Mariupol, Bakhmut e Avdivka. Tre grandi battaglie, durate mesi e mesi, tutte e tre vinte dall'esercito russo. Questo è un dato di fatto. Con la controoffensive ucraina che è stato un fallimento totale, non soltanto non hanno riconquistato nulla, ma stanno oggi perdendo del proprio territorio. Dunque, ancora di più adesso, ma in realtà prima, perché in realtà Zelensky stava già negoziando. Poi sono intervenuti gli americani, soprattutto i britannici, c'era Boris Johnson, capo della Gran Bretagna, al governo, come premier, e hanno di fatto boicottato quei tentativi di negoziato, che erano in atto, mediati prima in Bielorussia, ricorderete poi ad Istanbul, e tutto questo l'ha raccontato Bennett, un ex premier israeliano che in quei giorni aveva rapporti sia con Putin che con Zelensky, e quindi questa informazione ce l'ha raccontata lui. Zelensky stava per arrivare, era disponibile ad arrivare ad un negoziato. Poi sono intervenuti i britannici e gli americani, per interessi loro, per me contrario, gli interessi strategici europei, e Zelensky addirittura ha approvato quel famoso decreto che proibisce di poter trattare con la Russia, fino a che ci sarà Putin a Cerminino. Ovviamente sono buttati, sono stata l'iniziativa politica. Tutti coloro appunto che hanno sostenuto dall'inizio altre tesi, un altro piano, sono stati definiti Putiniani, e tuttora a quanto pare Zelensky appunto sta compilando una lista di Putiniani da presentare al Parlamento europeo, credo anche alla Casa Bianca, ai vari governi amici dell'Ucraina, a cominciare dal governo Meloni. Altra cosa folle, è tutto folle, stanno accadendo cose folli e tra l'altro in un momento in cui appunto i russi stanno vincendo sul campo, quindi in un momento durante il quale ancora di più dovremmo lavorare sul negoziato. In un momento del genere politici europei, Macron, ma anche Ursula von der Leyen, stanno impazzendo, rilasciando appunto dichiarazioni per me folli e politicamente criminali. Il concetto espresso da Macron e difeso dal premier a tal, appunto secondo il quale la Russia non può vincere questa guerra, non deve vincere, è un concetto che alcuni politici europei stanno ribadendo da mesi. Io voglio ricordare alcune cose, perché io sostengo che l'obiettivo dell'Unione europea non sia mai stato arrivare alla pace. Queste sono linee comunicative, frasi dette a favore di telecamera, ma l'obiettivo è sempre stato quello, ancora prima dell'invasione appunto russa, quando hanno, diciamo, disatteso gli accordi di Minsk, quando alcuni politici europei e statunitensi hanno alimentato il conflitto e quel colpo di stato appunto delle romaide, colpo di stato era, hanno proprio buttato benzina sul fuoco perché la logica era quella, utilizzare quel momento per inasprire il conflitto ed arrivare a quello dove sono arrivati, sia stato appunto da allora e poi successivamente l'obiettivo alimentare il conflitto per mille ragioni, ragioni soprattutto strategiche statunitensi e britanni, che la divisione, la separazione tra Europa e Russia, l'Europa che è un grande continente, appunto gli stati tecnologici, dei consumi eccetera, con la Russia che è un grande continente, perché è un continente dal punto di vista appunto dell'energia, delle risorse legate all'energia, petrolio e gas, questo è sempre stato un obiettivo americano e britannico e poi evidentemente perché chi preme sono i fondi di investimento per lo più americani che ormai influenzano le scelte dei politici, il CEO di BlackRock, un caro amico Larry Fink di Draghi, un caro amico, e in generale questi fondi di investimento che gestiscono dei patrimoni così enormi, BlackRock che è il principale fondo di investimento a livello mondiale, gestisce un patrimonio di 8 mila miliardi di dollari, hanno ormai un potere di influenza politico di fatto, sui politici, teoricamente quelli eletti, che è incredibile, per me anche per questo il cittadino vota meno, perché ritiene che votare sia sempre più un esercizio inutile, perché in realtà le decisioni, tra l'altro è vero, vengono prese altrove al di fuori dei parlamenti, anche al di fuori dei consigli dei ministri, purtroppo è vero. Vi dicevo che appunto, forse anche questa è una valutazione da fare, perché i principali fondi di investimento finanziari, anche banche d'affari, detengono pacchetti di azioni, cioè sono i principali investitori istituzionali delle principali fabbriche di armi e anche delle principali case farmaceutiche. Perché dico questo? Perché ieri Ursula von der Leyen ha rilasciato altre dichiarazioni folli, io non so, l'obiettivo è o è fare il presidente di nuovo della Commissione Europea, forse addirittura prende il posto di Stolteberg alla Nato. Fatto sta che la von der Leyen ha detto, una guerra in Europa forse non è imminente, ma non è impossibile, gli stati europei devono capire che la pace non è permanente e per questo l'Unione Europea deve investire maggiormente in armi nei prossimi cinque anni, dando priorità agli appalti congiunti nel settore della difesa, troppo come abbiamo fatto con i vaccini e con il gas naturale. Appalti congiunti, quindi unire gli sforzi, unire i soldi provenienti da tutti noi contribuenti europei per fare acquisti appunto di armi. E ricordo ancora una volta che le principali fabbriche di armi del pianeta sono per lo più nordamericane, dunque una buona parte dei denari provenienti anche dalle tasse di cittadini europei finirà con una nuova corsa al riarmo, ovviamente che deve essere preparata politicamente da dichiarazione del genere, finirà nelle casse delle principali fabbriche di armi del pianeta, che sono per lo più statunitensi. Vi dicevo e ricordo alcune declarazioni, poi vi saluto, che non è la prima volta, è quella linea, la linea io la definisco la strategia bellicista, tra l'altro nei prossimi giorni uscirà un libro che ho scritto, Scomode Verità, dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza, dove io cerco un po' di ricordare come si è sviluppata questa strategia bellicista, convincerci appunto della morte imminente di Putin, degli russi, tutti i disertori che combattono con le pare, dell'esaurimento dell'armi dei russi, delle sanzioni che funzionano, quante volte abbiamo ascoltato dichiarazioni del genere, l'economia russa sta crollando, crollerà nel giro di pochi giorni, politici importanti che oggi dai principali giornali italiani vengono descritti come guru, ci hanno appunto mentito in questo modo. In più, anche, per me è stata una menzogna, è quella, ve lo dicevo prima, diciamo la linea secondo la quale l'obiettivo di inviare armi, sanzioni e tutto quanto era mettere Putin sul tavolo del negoziato e trattare con lui, posizione, diciamo, più equilibrata. Non è vero, non vogliono trattare con Putin, perché come ha detto Macron, l'obiettivo è la sconfitta militare della Russia e Macron non è il primo a aver detto queste frasi. 24 maggio del 2022, da Davos in Svizzera la von der Leyen indicò l'obiettivo, Kiev deve vincere, faremo di tutto per questo. 24 maggio del 2022, concetto ribadito il 29 agosto al forum strategico in Slovenia, Kiev deve vincere, non Putin, sempre la von der Leyen. E il 18 febbraio del 2023, la conferenza, quindi l'anno scorso, sulla sicurezza monaca di Baviera, durante la quale appunto la von der Leyen ha chiesto agli alleati di raddoppiare gli sforzi militari per aiutare Kiev a sconfiggere un invasore russo. Dunque l'obiettivo è la vittoria di Kiev. Draghi, pensate, si è spinto oltre e intervenendo al MIT di Boston, 9 maggio del 2023, ha detto questa frase che è clamorosa, quello del volete la pace o i condizionatori? Kiev deve vincere o per l'Unione Europea sarà la fine. Dunque non più il negoziato, ma una vittoria esistenziale per l'Unione Europea addirittura. E qui che purtroppo, analizzando queste dichiarazioni di Draghi, che io mi preoccupo delle dichiarazioni di Macron, anche se poi tanti paesi l'hanno smentito, hanno detto non siamo d'accordo con Macron, però mi preoccupo quando Macron dice non escludo l'invio di truppe dei paesi NATO direttamente sul campo in Ucraina e collego quelle dichiarazioni a quello che ha detto Draghi, no? Che è considerato... Oggi Draghi gli stanno dando un dossier, la Ursula von der Leyen gli ha dato un incarico appunto di analizzare delle questioni economiche e finanziarie dell'Unione Europea, di indicare una strada, investimenti, lui sta intervenendo, è un dossier, un incarico di fatto, un lavoro che gli ha chiesto appunto di preparare Ursula von der Leyen e Draghi disse Kiev deve vincere o per l'Unione Europea sarà la fine. Accettare una vittoria russa o un pareggio confuso? Neppure il pareggio va bene, dunque non va bene il negoziato, quello di oggi, un negoziato confuso? La Russia che resta con determinati territori che ha conquistato? Accettare una vittoria russa o un pareggio confuso indebolirebbe fatalmente altri stati confinanti e manderebbe un messaggio agli autocrati che l'Unione Europea è pronta a scendere a compromessi su ciò che rappresenta, su ciò che è, ciò che rappresenta, ciò che è balle. Non vuole scendere a compromessi, non vuole il negoziato perché con la guerra ci si guadagna, perché evidentemente prolungarla permette appunto di continuare questi guadagni e poi perché la strategia nordamericana è appunto l'allontanamento e l'indebolimento continuo della Russia, tanto chi ci rimette maggiormente, in primis, sono chiaramente gli ucraini e l'Ucraina che è un paese sventrato e poi siamo noi cittadini europei, perché atlantismo e europeismo non sono la stessa cosa. Per arrivare alla Meloni, che ovviamente è l'unica volta che ha detto qualcosa di sensato e forse che rappresenta davvero il suo pensiero quando due comici russi le hanno fatto lo scherzo telefonico, lei ha dichiarato, eccola qua, vedo che c'è molta stanchezza, devo dire la verità, da tutti i lati, siamo vicini al momento in cui tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d'uscita, questo l'ha detto mesi fa, nello scherzo telefonico, oggi la situazione sul campo è peggiore per le truppe ucraine perché hanno perso l'OTA battaglia e i russi stanno avanzando e la Meloni più di una volta, anche lei invece pubblicamente, per farsi vedere da Biden, da Stoltenberg e da Ursula von der Leyen, ha detto non abbiate paura di scommettere sulla vittoria dell'Ucraina e sull'integrazione europea, scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina, dovremmo far di tutto appunto per far vincere l'Ucraina, dunque l'obiettivo non è la pace, non lo è mai stato, i cosiddetti putiniani d'Italia, quelli che finiranno probabilmente analisti e zaneschi, i presunti, come la propaganda del blocco occidentale, collaborazionisti del Cremlino, i pacifinti, sono stati coloro che dal primo giorno hanno sostenuto appunto che fosse interesse non di noi cittadini europei ma dei politici europei alimentare la guerra, l'hanno fatta dal primo giorno, questo non giustifica l'invasione russa dell'Ucraina, ma ci permette di capire maggiormente come siamo arrivati a quella guerra, la genesi di quella guerra, per ricordare un pezzo di Barbara Spinelli, criticato da morire perché anche lei all'inizio appunto di questa guerra osò ricordare quel che è accaduto prima dell'invasione russa dell'Ucraina, tutti coloro che hanno provato a ragionare, a esprimere anche pubblicamente dei pensieri, dei ragionamenti sono stati aggrediti da questo sistema di propaganda che poi non convince più nessuno, il punto è che coloro che non hanno più sostegno popolare, ancora di più adesso che si avvicinano alle elezioni europee, devono far di tutto per non far crollare l'Ucraina, mantenetevi in piedi quantomeno fino alle prossime elezioni europee o le prossime elezioni presidenziali americane, pensate quanto questi personaggi siano davvero interessati alle sorte dei cittadini ucraini, pensate che il livello di cinismo mantenetevi in piedi fino a che non ci saranno le prossime elezioni, per questo continuiamo ad inviare armi su armi e poi ipotizziamo addirittura coinvolgimenti futuri, quindi un inasprimento forse fatale e definitivo di questo conflitto, quasi capace di trasformarsi in una vera e propria terza guerra mondiale, il tutto per non far vincere Putin, il negoziato fa vincere tutti, un negoziato che fa finire una guerra fa vincere tutti, e no, l'obiettivo è la sconfitta militare della Russia, questi sono diventati politici europei, grazie a tutti e se potete condividete.